Ok, tranquillo. Raga, io e Peter comunque sembriamo molto uomini con queste voci. Good much. Guarda, come si arriva, no? Amo ti, eh. Grazie, casini. Dai. Dai. Dopo vi mando questi altri screen. Ma non puoi mandarmela ora. Eh, mandarei ecco. Tanto il telefono che avete in mano non è in live. Cosa? Il telefono che avete in mano non è in live, quindi mandateci la roba. Ma io ho i vostri numeri su quest'altro telefono. Esatto. Ma ce lo do adesso in live se vuoi. Vai, Davide, dai il tuo numero in live. Ma tanto non potreste vederlo perché voi ci avete il telefono in live. Appunto. Abbassi un attimo. Cavolo, raga, ho una voglia matta di fare. È un dieci senza spiegare il motivo in live. Zero. Ma? Zero. Zero. Cos'è che hai detto? È un dieci? È un dieci, ma ride in live senza spiegare il motivo. Troppo noi. Questa è la zero spaccazione. Ma io l'aggo. Raga. No. Ma io non ti vedo mangiare. No, infatti tra poco. Avete già mangiato? No, io devo ancora mangiare. No, sai perché dobbiamo andarcene tutti? Dobbiamo chiudere la live, raga, perché non siamo curiosa. Ma me l'ha mandato? Ho fatto solamente un... Quei minuti e no, anzi, tra un po' la chiudiamo, però, cioè... Alle 21.00 la chiudiamo. Miriam vi ha mandato lo scrivere comunque a uno degli scrivini. Oh, anche a me. Ma a me non è arrivato. È arrivato su Instagram. Ok. È arrivato, è arrivato. No, ma... Io? È cosa io rispondo. Ma a me non è arrivato. Quanto è grosso? Instagram. Ah, ma cosa è grosso? Quanto è grosso? Oggi. Oggi? Gli edico oggi? Adesso. Adesso. Eh, però, cavolo, mi ha scritto... Eh, dopo, dopo. Dopo, dopo. Dai. Ma su Instagram hai mandato... Che parli, non posso vedere. Oh, Brisida. Brisida. È una cosa così grossa. Beh, lo screen che vi ha mandato no, il resto sì, però... Ma il resto ha bisogno di spiegazione. E il resto quando ce lo mandi, scusami, non ho capito. Sono tutti curiosi. Sono tutti curiosi. Sono tutti curiosi. Ma che cazzo, ma è ovvio. Cioè, lo sono anche... Cioè, io dico... Questo qua è il gossip dell'anno. No, no. Ovvio. Anch'io. Beh, Davide, tu non hai idea. Eravamo al Webbo Camp, non facevamo altro di parlare che parlare di tipo cazzi nostri, cazzi degli altri, con Webbo davanti, letteralmente. che grande flex. Cos'è che hai fatto? Ho fatto piangere il Webbo, il flex più grande ce l'ho io. Hai fatto piangere? È proprio Parigi. Ma perché... Cioè, se io ti dico una cosa, è per oggi, non per domani. Cristo. Tutti mi fanno la stessa domanda. Voi guidate la macchina come... No, l'abbiamo usata come appoggio per la live. Ah, ok. Quando non è la ring light, ma è una macchina, ci sta, è giusto comunque. Esatto. Adesso siamo un po' rilluminati. Mi piace oggi, ma... Ho un contenitore per il caffè. Let's go! Arrivo. Oggi, raga, ho dovuto registrare un lavoro che penso sia il lavoro più bello che mi arrivi mai in tutta la mia vita con un brand strabello. E sicuramente non vorranno mai più lavorare con me perché secondo me loro vogliono dei video seri e distruttivi. E io, letteralmente, ho messo delle foto di me venuta malissima con delle voci di gente che ride al di sotto. Perché sono troppo simpatica. Ho paura che il brand non colga la mia simpatia. E ripalgo? Ripalgo. Non voglio mettere cose noiose e distruttive sul mio profilo. Cioè, istruttive. Sono trucchi. Però non voglio fare un video noioso. Faceva troppo ridere. Però secondo me non vorranno mai più lavorare con me. Io sono triste. Ok, ragazzi. Tra quattro minuti vedremo il doppio dell'anno, ma... Capiremo. Mi sto sudando 18 camicie, 24. Prima piove, ma sto sudando, finalmente. Brisida, io ho fatto finta di essere a te e ti ho rubato tipo il biglietto di ritorno da Lignano. Ho fatto finta di essere a te perché non avevo il biglietto. Mamma mia, stavo lontano da tutti. Raga, eravamo tutti in prima classe e arriva a finire con il biglietto per la seconda classe. C'è chistissimo. Esatto, mi ha comprato un brutto. Io avevo un regionale, poi Intercity, a me è ancora peggio. Beh, raga, Intercity, devo dire, ho fatto tutto. A due ore di ritardo dovevo andare al concerto di Ulta, ho fatto tutto all'ultima truccata orribile, al concerto a Urlare. Com'è stato? Com'è stato? Bellissimo. Wow, un certo punto è il mio amore tonico. Ci sta, ci sta. Ma, raga, ho pianto. A me particolarmente non piace, però, ok, capisco. Io sembravo una pazza, giuro, piangevo, cioè, facevo, no, che bella. Poi le sapevo tutte. Oh mio Dio, mi immagino le urla, mi immagino solo quelle. E, mi avrei vedere un video che, sponano tantissimo. Fai tranquillo. Niki, non morire, sono meno due minuti. Sono troppo curioso, sono qua che continuo a guardare il telefono per vedere tra quanto dobbiamo finire la live che voglio vedere. Non mentimi, come dire. Cosa guardate voi? Sì, però, poi mi sa che non hanno capito perché qua c'è scritto tipo mancano due minuti resistiamo, ma non verrà poi rivelato ovviamente. No, non l'avete capito, non lo diremo. Venti, non verrà rivelato per un punto di spesa. ciao, ciao Dennis. Ragazzi, c'è Dennis per portatelo. Ciao Dennis. Ciao. Che sguiglie. Cosa? C'è un ragazzo che abbiamo conosciuto al webocamp. Io voglio troppo il gelato. Raga, manca un minuto. Un minuto al gossip del mondo. Cosa scrivono? Nicchi, non morire, non posso vivere senza il video. In poche parole, in poche parole c'è un gossip gigantesco che c'è Mati in chat, solo che non possiamo guardare la chat perché siamo in diretta e quindi adesso ci si sacca alle nove, stacchiamo, andiamo a vedere il resto del gossip. Esatto. In poche parole. Tra un minuto scopriremo il gossip. Oh, stai chiamato tutto questo teatino. Cosa? Facciamo pure videochiamata dopo? Così ve lo racconto anche il gossip. Va bene, va bene, però se avete messo il teatrino per niente, giuro. Guarda come vedo anche non so perché quando dieci nove otto sette cinque Anni che possiamo morire? Ma che vuole dire? Sono le nove! Ciao ragazzi, devo scoprirlo! andiamo a scoprire!